orsetto musetto sta dormendo con il suo orsacchiotto adesso mi faccio uno scherzo uno due tre buuu che spavento e ridi ridi ti piace farmi gli scherzi eh stavo facendo la nanna così bene sì lo so ma dobbiamo partire per andare a casa dei colori è vero giusto bambini siete pronti sì siete pronti a fare un altro viaggio con noi attraverso la magia della fantasia sì e oggi il colore lo scelgo io tocca a me giusto l'altra volta scelto io e tu che scegli io scelgo il giallo wow allora prendiamo la valigia eccola qua oh sì perfetto io intanto vado a prendere una cosa ok io ho già trovato delle cose da mettere dentro la valigia e ho un paio di calzettoni e poi un limone e un peperone ecco io ho portato il miele oh grazie mettiamo il tuo miele sei sicuro sì 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 voglio portare il miele se mi viene un po' di fame me lo mangio te lo ricordi vero che le cose che portiamo in viaggio a volte non le mangiamo noi ma le regaliamo sì me lo ricordo ma va bene così ok lo metto in valigia e poi però abbiamo preso quasi soltanto cose da mangiare ci vorrebbe anche qualche oggetto ci sono la mia palla gialla oh grazie e allora io metterò la mia penna gialla sì chiudiamo e siete pronti mani sugli occhi uno due tre poi li riapro e vedo che c'è ops oh oh ma non siamo gialli siamo arancioni già com'è possibile che siamo arancioni dobbiamo aver sbagliato qualcosa che cosa non lo so forse abbiamo messo qualcosa di sbagliato dentro la valigia magica qualcosa che non è proprio giallo boh andiamo a guardare ah ecco cos'è abbiamo lasciato dentro i nostri ricordi tutti rossi ah è per questo perché il giallo più il rosso diventa arancione eh sì dobbiamo togliere questi ricordi e dove li mettiamo te lo dico io cosa dobbiamo fare dobbiamo prendere un'altra valigetta una la teniamo per i ricordi e una è quella che utilizzeremo per viaggiare giusto buona idea e allora ce l'ho ecco qua i ricordi li metteremo in questa valigia e questa la utilizzeremo per viaggiare adesso qua dentro c'è solo il giallo sì 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 rifacciamo la magia tutti insieme mani sugli occhi uno due tre poi li riapro e vedo che c'è uh wow guarda siamo tutti gialli ho il cappello giallo la camicia gialla e tu hai un bellissimo fiocco gigantesco tutto giallo sì 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 apriamo la valigia certo apriamola subito ecco qua et voilà oh oh ho un ombrello in mano e Musetto dov'è? Musetto? Musetto? ah eh veramente non so perché ma sono finito qui ah su una seggiolina gialla sì non so come mai oh veramente non so neanche io che cosa sia successo mi sono ritrovata un ombrello in mano oh forse dovremmo aprirlo magari in questo mondo tutto giallo ci piove in testa del giallo sì apri ok proviamo oh ah ah così saremo riparati quando in cielo ci sono io il sole splendido splendente e l'ombrello davvero non serve a niente guarda Musetto c'è il sole lassù ciao oh ciao 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 dai 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 chiudi l'ombrello ok chiudiamo l'ombrello eh sì non ci serve l'ombrello adesso che c'è il sole ciao sole ciao ragazzi che fate di bello qui nel mondo tutto giallo siamo venuti a conoscere chi abita qui beh chi al mondo c'è più giallo di me il sole è una palla di fuoco riscalda e illumina il mondo e sono così bello paffuto e rotondo sì che bello voglio darti un bacino no 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 assolutamente no non puoi baciare il sole ti scotteresti tutta ah è vero mi sono bruciata tutta guarda che guance rosse anche il naso rosso mi è venuto mi brucia eh sì eh ci sei avvicinato troppo al sole il sole scotta bisogna stare attenti bravo orsetto proprio così ma se volete dal sole un bacetto ve lo do lo butto lì muah visto laddove il sole manda un bacio nasce un fiore quello è vostro tra la 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 grazie avete visto il sole fa nascere i fiori oltre a bruciare i nasini ah 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 è vero aioioi ah e quello che è? chi viene a disturbarmi mentre sto maturando eh? una banana come osi chiamarmi banana? io sono mister gran turco gran turco gran turco ah ah e quando mi arrabbio mi arrabbio i miei chicchi esplodono in po 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 come? ciù 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 ma che fai? ciù ma guarda un po' ma che tipo? mmm ma cosa ho sul cappello? tutte queste cose che ci ha tirato addosso palline bianche io lo so cosa sono sono pop corn pop corn? si ah ah ma che fai? assaggio i pop corn davvero? si mmm ma sono pop corn sul serio? si c'è tu vuoi dire che quel tipo il signor gran turco si è arrabbiato ha starnutito e i suoi chicchi sono esplosi in pop corn si deve essere proprio così forse ho capito perché dalla valigia magica era venuto fuori l'ombrello magari ci dovevamo riparare dai pop corn ah 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 beh anche stavolta possiamo riportare a casa dei doni pop corn e i fiori che ti ha regalato il sole già mettiamo tutto in valigia poca fiorellini e chiudo oh ah ah rientrati si siamo a casina bello anche questo giretto a casa del giallo si e oggi potremo fare la merenda con i pop corn che abbiamo trovato a casa di giallo si pop corn e miele non lo so io li mangerò senza miele prima però dobbiamo fare i ricordi da mettere in valigia i ricordi di questo viaggio di giallo si giusto ecco questo è il ricordo che io metterò dentro la valigia quando il sole da un bacino nasce sempre un fiorellino ma se bacia un bambino può bruciargli il nasino ah 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 bravo musetto io invece voglio fare un collage adesso ritaglierò un ombrello da attaccare qui e poi ci attacco i pop corn che ci ha lanciato addosso il signor gran turco per non dimenticare questa avventura divertentissima ricordi in valigia si e siamo pronti a fare la merenda bambini create anche voi i ricordi di questo viaggio si 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 e ora mani sugli occhi uno due tre poi li riapro e c'è un bacino per te ciao ragazzi alla prossima volta vi aspettiamo ciao 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 ciao